Buongiorno clan! Siamo al 24 di ottobre e inizia una nuova settimana con la runa Nautis. Cosa ci vuole dire oggi questa runa? La runa oggi ci vuole mettere in evidenza la croce che carichiamo, quindi tutte quelle pressioni che sentiamo su di noi e che in realtà ci portano verso la vittimizzazione. Ah, poveri noi, perché ci troviamo in questa situazione, perché facciamo questa cosa, perché facciamo quell'altra. E questo genera tutta una serie di emozioni che limitano la nostra vita, perché ci abbassano le frequenze. E quindi ci viene richiesto con la runa del giorno di oggi di attuare una depurazione profonda di queste emozioni e di questa sensazione di vittimizzazione che proviamo. E come possiamo farlo, oltre allo stada che adesso vedremo? Semplicemente ponendo la nostra attenzione su il lato positivo delle cose. Anche nei momenti più duri, guardare sempre al lato positivo. Possiamo utilizzare lo stada, ci mettiamo in piedi, portiamo le mani davanti al nostro corpo in forma di spirale con il braccio sinistro verso l'alto, il gomito sinistro verso il basso e il gomito destro verso il basso. Semplicemente sentiamo le energie che fluiscono come una spirale tra le nostre mani e immediatamente dopo apriamo le mani come se fosse un calice e da lì le portiamo alla posizione di ringraziamento davanti al nostro cuore. Possiamo utilizzare il Galdrara che è Grazie per aver ascoltato il messaggio di oggi. Ci sentiamo domani con un nuovo messaggio e una nuova runa, nuove energie. e ricorda, accendi la tua luce.